Ok ragazzi, ecco Boomer, vieni qua, vieni qua, Loren, vieni qua, venite qua, venite tutti qua, spawniamo dove spawnano loro? Così li facciamo. No, io sono sopra, io sono sopra, io sono sopra. Tu spawna, Loren, dovrebbero spawnare tipo qua. No, 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 non sono spawnati. Ah, ne ho presi due, ne ho presi due, ne ho presi due. Vai! Ah, non sono spawnati in tempo. Ai danni, sì. Ai danni. Fa anche appaggia metà vita. Eh, lo, lo, l'ho saltato io. Se non mi vedono, io faccio tranquillamente. Perché non usano statattica? Perché non usano statattica? Ok ragazzi, aspettiamo che vadano dentro. Sì, 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 sì. Così possiamo toccarli meglio. Oddio, possiamo anche trollarli volendo. No, no, facciamo questa bene e poi trolliamo. Facciamoli a sinistra, non devono passare a sinistra. Li ho vomitati. Bravo. Eh, li ho vomitati, potrei andare. Sì, prendi coach. Prendi tag. Non è tag, oltre al danno la beffa. Tag. Ce l'hanno con tag, niente. No, è il Bassotti adesso, il coach. Il tag è adesso. Il tag è Rochelle, ok, buona. Rochelle. Ma chi è? Lo smoker in lì, ok. Io, 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 le stavo andando addosso a cosa. Finalmente. Ho giocato questa mappa, no? Non credo. No, non l'hanno manco provata. Cavolo, Indy, se lo prendevi. Vediamo dove vanno, vediamo cosa fanno. Noi andiamo a destra, neanche dubbio. No. No, due, basta. Ho preso uno. Ciao, tag. Ciao, tag. Ciao, tag. Sì, arrivo nemmeno al boss qua. Siamo già usando i Medi. Vediamo se si dividono oppure stanno uniti. Allora, ci hanno fatto fuori un bel po', eh. Soprattutto contro il boss. Ci hanno fatto usare un secco di MediKit. Quindi stanno migliorando. Magari ci battono all'ultima mappa. Stanno andando tutti a destra. Non usano la nostra tattica. Ma loro stanno giocando in un altro server quando giocano da infetti, cioè. Non ci guardano nemmeno. Quanti siete? Ci siete tutti? Mh. Allora, il nostro... Eh, non proprio, però vabbè. Ok, devo tornare indietro però adesso, eh. Sono tutti quanti qui, quindi aspetta che... L'ultimo e lo aggrappo. Oh, dovevano tornare indietro, no. C'è qualcuno che c'è il charger. C'è qualcuno che c'è il charger. C'è qualcuno che c'è il charger. Prendeteli quando sono in cima alle scale e così li fate volare giù. Ok, non più. Va bene. Oddio, bellissimo. Oh, ninja grasso! Ninja grasso sono! Ciao, Yaglos. Se considerassero pure il tempo in cui finiscono la mappa. Ho visto un hunter. Oddio, no, in acqua nuoto. What the fuck? Eh, ha senso. Ho preso qualcuno proprio... Senza guardarlo. Eh, però sta andando avanti, eh. Un charger, un charger. Un charger, un charger. Un charger, un charger. Un charger, un charger, un charger. Un charger, un charger, un charger, un charger. Un charger. Non vanno giù, però, eh. Ok, uno è andato giù. Uno sputo va giù. Uno sputo di vita. Qualcuno spara. Uno due metri che ti imbalassa. Uno due metri che ti imbalassa. Sicuro, tutti e due è lì. Quello è l'angolino della cura. Ah, sarebbe stato bellissimo, figlio. Ah, va a buttare i laci d'addosso? Sì. No, uno che arriva pom, pom. Non neanche abilità, sono attacchi base. Sono da spitter di nuovo. Uh, se quelli che rubiamo prima che scendono, sono morti. Vai. No, Leo, mi ha prendo. Se no avrei ucciso Leo, diamine. No, no. Diamine. Cavolo, perché Leo mi ha shottato in testa, vai? Uh, uh, uh. Tenete i miei pappati? Vai. Ok. Ok, ok. Non mi, non mi. Oh, Dio, 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 Dio. Oh, my God. Oh, my God. Oh, mio Dio. Adoro la spitter, cavolo. Qui servirebbe qualcuno che fa danni prima che appena la parte la cazzo. Eh, sì, spesso, ci sto pensando. Charger, tocca a te. No. No. Dovevano attivare la cazzo. Eh, bisognava farlo stealth. Vai, boomer. Oh, Smoker. Prendi uno prima che cadano. Prendi l'ultimo che rimane su. Prendi indietro. No, sto mandando in giro da dietro. Prendi l'ultimo che scende. No, Smoker. E' vero. No, cavolo. Eh, niente, va bene. E' che ti fa? E' che ti fa? Easy kill buttata via. No. Qua, qua si passano, vengono presi instant. Io sto qua a ti bugger. Aspetta, no, no, aspetta. Forse pensano che stanno... No, no, pensano che devono ritornare indietro là. Ma ce l'ho visti giocare, sti qua? Mi sa che proprio c'hanno... No, mi stanno sentendo me. Guardami, guardatemi dove sono. Dai, 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 sono bloccati lì. Non ci credo, sono saltati giusti giusti. Fuck. Ok, non ho pensato che devono andare da quella. Noi li aspettiamo, noi li aspettiamo. Sì, aspettiamo. Dovete sapere il 38 di vita e vorrei un attimo. Ok, hanno capito, mi sa che hanno capito che devono tornare indietro. Poverino, Iagos. Ma non sentono sto... Ah, due le prese, va bene. Zombie, miei prodi, attaccate. No, Iagos, perché non sei caduto? Vai, aspetta. Ah, lo vedo. Non hanno vite, però, non hanno. Ma DaiTag potrebbe dare le pillole a Iagos? Non le dà. Ah, è ora, ora. Eh, vabbè. Ok, ok, c'è. Sono, sono del modo. Potrei portarlo attraverso la Nitro? Sì, sono quasi a metà, sono quasi a metà. Nitro! Bravi! Nice. Nice one. No! Che bastro. No, ok. Eh, vabbè. Oh, è l'angolino. Oh, è l'angolino. Fa anche per morto. Sì. È morto, fa anche per si. Ah, però usano il defibrillatore, forse. Vabbè, non fategli usare. No, vabbè, perdono punti, perdono punti. Oh, è un altro andato! Un altro andato! Un altro morto! Eh, ho buttato giù tag, perché si è buttato sulla pozza acida. What the fuck? Ok, manche le bassotte. Vai. Lo lascia indietro? Hey, my name is Boomer. And I... My name is... Dai, dai, che ne è andato. Dai, che ne è andato. Sì! JJ, ora possiamo trollare. Bene, e devo i trollarli. Datemi punti. Non bello nel video. Vai, devo i trollarli. Punti, 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 punti. Grazie. Oddio, che salto. Sarebbe da scriverli adesso, bene, non vediamo l'ora di vedere il video. Io sono curioso di andare a vedere... Aspetta, vado a vedere solo... Lo fate entrambi? Io che ho registrato tutti. No, Gmod, Gmod va, Gmod. Ok, pistola, vai, let's go. Aspetta, aspetta. Giù, 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 giù. No, non c'è, no, c'è soltanto un... Ah, no, c'è soltanto un... Un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, che... Però Indy sta registrando. Io sì. Indy sì, Indy. Ah, no, 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 non togliere le parti migliori. Sì, sì, sì. Un attimo che prendo le armi. No, pistola. Se lo peraltro, chiamola di quel prendiamo quella. Ma tipo, vabbè, vabbè, chi se ne frega del... Oh, si vinciamo solo quelle pistole. Occhio, ma per te lo prendo, eh? Ma per te lo prendo, non si, non si, non si, non si, non si, non va male. Occhio, Hunter, dietro. Facciamo... Pistolatelo, pistolatelo. Vai. Oh, buono. Oh, rubano. Oh, oh, ci sono un bel po' di... Oh, no, cavolo, mi ha preso. Buono, buono, buono. Che è dietro? Che è dietro? Ma c'è partita, mi sa. Eh, sono io che... No, no, sono io che li ammazzo da dietro. Ah, buono. Vado a rincorre tipo, salvia, come sta? Di qua? Ok. Ci sono più poligoni qua che sull'originale, mi sa, però. Uh, vediamo cosa c'è qua. Oh, chitarra! No, io vado da solo di chitarra. Digle, 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 ci sono due digle qua. Prenda pistole, io vado da solo di chitarra. C'è più lo smacchere dietro. Chi è la digle? Sì, a prendere il mirino sulla pistola, no. Ragazzi, vado solo di chitarra. Le doppie pistole va bene, eh? Che le suono un po'. Sì, 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 va bene. Ok, buono. C'è una doppia... C'è una digle qua, Mastro. Vabbè, 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 vabbè. Vabbè, 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 vabbè. Aspetta, ma... È tempo di suonarlele. Beh, qua c'è. Vabbè, vabbè, vabbè. Andiamo, andiamo, andiamo. Ma è non me la digle. Ah, ah, ah! Preghiamo. Ah, qua, dobbiamo stare attenti. Qua, uno deve rimanere qua ad uccidere gli special K-1 sopra. Io vado avanti, vado avanti. Charger possono sciottare e charger dietro 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 ok buona come dice mostro di 15 No, non andare troppo avanti che se vieni preso sei fregato Rimani sopra la scala Ce l'ho fatta La capa non è giusto Leale Boomer sotto Lo sento ma non lo vedo Ah scusa pensavo fossero zombie Hai risposto il fuoco bellissimo Occhio Ti ho quasi buttato giù Ah ma di quello hai munito in finita Sì sì Perché sì era lei che mi stava guardando tipo salve come sta Giochi, giochi, giochi aiuto Aspetta aspetta arrivo io Mi sconcentra nella mira Mi scusi Occhio al charger è entrato in charger Io devo fare un po' di parole Aspetta Ok Uè Io ero lì aspetta un secondo devo ricaricare Attivate il coso? No Mi cura il spider Au 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 Se muori sei andato Mi sa se muori sono andato Se muori sei andato E ce l'ho solo solo sono senza Oh grazie Oh Romate la risata Ma Non mi hai curato Prendi questa Allora drogato Prendi questa Ho poca poca vita Su di qua Arrivo Qua un charger O uno smoker ci fa volare via Proprio bellissimo Ok buona Ok Oddio è questa zona C'è una cappa Quanto vorrei prenderla Eh ma è la nostra sfida oggi Così prendere armi buone in una main run Eh Oh Hunter Oddio No Ok dobbiamo tolgo Ok no Ok Ho visto un medikit qua C'è un medikit qua Ma davvero siamo a metà mappa con la pistola Sì Assolutamente Oddio ragazzi Cioè stiamo per completare l'ultima mappa Stiamo facendo in modalità Nord Nord Stream Troll Super mega hard E questi qua riescono Oh si è saltata la nitro Io mi rallena Io ho visto Oh è delle balle tag No aspetta un altro Ok È morto Ah ragazzi sapete che se saltate Negate Che fai tipo Oh fa Se saltiamo Se saltate e c'è tipo Vi colpisce un Un esplosione tipo quella del boomer No Oppure il lancio del No il lancio del Charger non credo Però vi annula l'animazione Quella del Ecco per esempio Non t'ha preso Cosa? Per l'anti charger Chi? No è vero Ah c'è un madman Pensavo fosse un giochi Ma è vero qua c'è ancora la parte Manca la parte del Del coso Manca la parte del Dell'acqua Oddio smoker dietro No a parte del È tutta scura Brutta Penso che è la mapa finale Prima del boss Giusto? Si Ma dai Boomer che fa Possiamo usare Mitragliatore Sì 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 Vediamoci un po' Vai 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 Grazie Ah ragazzi Voglio che qualcuno canti Fuori Ma vuoi morire? Ok Oddio Fuori Madman Madman Meru 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 For the gold For the gold The grace of the god Si sto surriscaldando E' aperto E' aperto E' aperto Mastro E' preso No spesso E' che c'è uno smoker Entrate dentro il portale Entrate dentro il portale Grazie Dove? Dove? Oh oh Mastro? Ci sto Oh niente Vabbè dai Vabbè Va senza Aspetta Se è bugato Vuol dire che non può venire a rupperci le palle Sì infatti Si stacca con l'altra cosa No dai che schifo Ah Poker Ucciso Ok è sempre là sopra quello smoker Non l'abbiamo ucciso No no l'ho ucciso io L'ho ucciso io Ok vabbè Ottimo Scusa Andy Ho una mira da cecchino io Ho mirato alla lingua e ho detto E' quella la sua testa E sì lui era Sì ma non possiamo usare il cecchino No ho usato la deagle Ah beh Oddio charger Sai che sono a terra Oddio non sono a terra No 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 Forse sono a terra Forse sono a terra E' la spizzanza Il primo trillato è questo qui è il risultato E' uccidete il coso Se no ne potete rilassare Dietro Andà rietro Spara spara Indi Spara indi Spara indi Ok buona Indi Ok E io sto morendo però Ok Eh vabbè In due Dai Facciamolo Let's go Vai A fianco a fianco A sinistra a sinistra Loren Cendi Cendi che sta morendo Eh niente Ce l'hanno fatto Attenzione ce l'hanno fatta Con le pistole Ma ce l'hanno fatta Quasi è arrivata alla fine Ma ce l'hanno fatta Adesso vediamo con tutte le armi Come siamo C'è l'hanno fatta Ti pensi che vogliono subito Ci siamo debuffati apposta Vediamo con Vediamo che ti c'è tag Dalla diretta Ah poi sono ancora di quello Stanno spawnando subito Allora Allora Noi abbiamo usato le pistole Possiamo avere questo vantaggio Un attimo No Ok Vabbè anche se fanno Oh raga Anche se ne fanno punti Abbastanza Cioè E non possono valere mille Di più punti Dai è scivolato È scivolato Qui il charger è devastante Anche la smoker Sì il charger è devastante E lo smoker Vabbè lo smoker Beh sì anche lo smoker Però Porca ma che il charger Non so perché Mi è scivolato Boomer Sono il boomer Smoker Vai È una cosa molto Molto Sneaky sneaky Boomer può far cadere la gente Se gli esplodi a fianco Eh Però deve essere sul bordo Tipo Ma sanno che hanno già perso in partenza Sanno che hanno già perso No ma vai dall'altra parte Così li fai cadere Cerco di arrivarci Eh magari ma non così Eh no Eh no Ah ma Iago se c'ha Ah No Ah panca perché ti metti in mezzo Avevo un'altra idea Però ha funzionato No Sì Sì Ne hai preso uno No cazzo No Davide Qualcuno che faccia il charger Che li butti via Ah io spero di fesserlo C'è madonna Se capitasse adesso il charger sarebbe ottimo Dai dimmi che cosa mi fa No questi si ammazzano le gambe Boomer Sono Sono un hunter Guardami Guardatemi Guardatemi Uno E uno Ah yeah A terra avrei Le ho fatto fare la caduta È caduto anche l'altro Non capirò mai come sto gioco calcola le cadute Cioè È caduto anche Era verde Ha fatto Sono caduti tutti Perché sono caduti tutti Sì è facile farli cadere Adesso se uno special si mette là sopra È il charger tipo Bellissimo Il charger bellissimo No Quella scatola maledetta Scatolina Non ci posso Non posso non rianimarlo Non posso non rianimarlo Non posso non rianimarlo Giù No È sulla scala Dai la scatolina Abbiamo vinto Dai Li ho atterrati tutti Come spit Vabbè Vediamo che dice Tag Vai andiamo Oddio quanti ha qua Ah perché è il finale Non andate al centro Non andate al centro Non andate al centro Possiamo usare tutte le armi Vogliamo finire la mappa almeno Se c'è una WP Prendete la WP Eh dobbiamo Sei so un motherfucker Ho un'ascia Ho un'ascia Sì Ho a capo Prendo lo scout Ho a capo 47 Io prendo lo scout Prendete le armi che volete Io andrò full meme Ve lo dico subito Aspetta vedo che cosa c'ha Oh me lo dico No perché ho preso questo Schifo Prendo la k C'è il mio Un bordero di armi Scout Ah sì Ok possiamo andare Guardate le gnammi Guardate le gnammi Indie il medikit Guardate le mie armi Guarda scout E' il mio set da sopravvivenza Ah volevo prendere Perché c'è uno smoker Dobbiamo attivare i punti esclamativi Sembra una copertina Pronti Vai Sì Ah la mia via è scatenata l'inferno Cioè via adesso Io tiro la cosa io Ah no dobbiamo prima core Oddio Andiamo Ah no dovevo aspettare forse No no Ah ok non l'avevo visto Aspetta la mannaia Oddio Boomer Giochi Vai corrette corrette Tanto devono starci dietro Sento un charger Ho ucciso Iacos Ho ucciso No No Indie Trampi 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 Fatto Intanto c'è un boomer Come fai a sentire il boomer Non lo so io ho sentito un boomer Ok buono dobbiamo attivare i cosi Ci sono tre cosi Ci sono Ci c'è il mirino al centro da Cortex Oddio Oh scout col mirino Adoro Fate fuori il tank Oh Hunter Hunter Attivate Appena Appena entrate A sinistra Andate Andate a sinistra C'è l'ultimo coso da attivare Ok Hunter Un tank è andato a terra Dove c'era come il tank? Mi sa che sono morto Dai 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 Cosa manca? Ho reso qualcuno Non lo so Ah C'è il tank data Niente Niente Diavolo Ah tag mi ha preso Che infame La prima era importante Vabbè Vabbè Ragazzi Almeno quest'acqua Facciamo più punti di loro Ah vogliono fare più punti di noi Ok Impediamolelo Avete presente la parte Che abbiamo fatto nella grata? Se qualcuno fa il charger Buttateli giù Sono già Sono 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 Buttateli giù Tipo da qua Ma dobbiamo tornare Ti basso già No Dietro 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 Ok Ok Sono vicino alla stanza Dove vi spavano Cavolo Sono già Sono già partiti No Non sono mica Già partiti Eh Allora è vero Perché all'inizio Possiamo farli fuori Ma raga Sono stati qui Sono la spitter Posso stare qui Aspetta possiamo scendere No ok Ci ritenei trasportami Io voglio vedere se riesco a fare la spit qua Un boomer No cavolo Vortex power level Oh ecco Sto partendo Basta C'è pronto Loren Fale il devastamento Presi Eh vabbè No No è andata di sotto Lo spit No Mi ero uccisi in volo What the fuck Non me lo aspettavo che funzionasse No la spit è andata Quale la spit è come è morta Con la motosiglia Chi è quella motosiglia Tag No no non è tag Non è così Riesco da vincerla questa Non mi lo permetteremo Vai corri Charger farli correre giù E hanno lo spitter No 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 Boomer Sono No niente No posso fare così Qua 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 possiamo spawnare Preso uno Preso Yagos Cavolo Eh stanno partendo in quarta È sempre dritto Buon l'azione Yeah Anche Joe che lì era perfetto Dove mi andare Smoker Ce la puoi fare Vai Isaac Ah sono io Vai Sono il charger Sto arrivando My job Is to kill them all Aspetta eh Che devo spawnare prima però Eh ricordo che ce n'erano due di tank Ah ma ce n'era un'altra qua di cosa Che è infamata E voi è morto Vai che è morto Leo sta uccidendo Vai che è morto Leo Ok buono Vittoria Quanti punti Quanti punti Stessi punti Stessi punti Non hanno fatto più punti di noi Vai vai E abbiamo vinto E tag dovrà fare un episodio di Cmod Ho sentito Cercate di mettere i limiti della mappa E poi ci sono io Ciao 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 богataw Ciao 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 Grazie a tutti.